Buongiorno! Buongiorno un cazzo! Ma buon anno! Buon anno un cazzo! E' tutto cazzo allora via! Tutto cazzo! St'anno del 2021 tutto cazzo! Nooo! E' un piatto stannettino, non lo fa un stile! E tu a te che ti sei alzato la dieta? Mi hai mangiato bene! Che fai? E poi mi ha toccato il cammino! E beh le poccine invece... Fermati! Come toccare una poccina? Si mangia i cannelloni! Che spettacolo fatti da nonna! Come si mangia o no? Calabocca! Come? Calabocca! Il primo dell'anno eccolo qua! Che stai a fare? Ho la dieta che mi fai i cazzi miei! E dopo? E dopo mi fai i cazzi miei! E poi? E dopo mi fai i cazzi miei! E dopo mi fai i cazzi miei! E dopo mi fai i cazzi miei! Ohhhh! Com'erano? E' buono! E' buono! E' buono! Capagnalle poche! Si poche! Era un piatto pieno! Come gli altri! Quanti ne vuoi mangiare? Dillo perché! Un goccio di vino! Fermi che ne vuoi? Io! Non la vuoi! Ne hai buttato la tovaglia porca da! Oh! No! Vabbè! Che tu sei un becizzo! Che fai botca! Scronza! Pure! Si! Arzucchi o no? Oh! Oh no! Eh! Arzucchi? Si! Che arzucchi? Ma puoi guardarti lì! Oh! E' verde! Dai! Dov'è andata? Vado al cazzo! Che mi farò giù? Oh! Mi sono scordato dei guardacce! Mannaggia! Adesso Roscio che tocca fare? Eh! Adesso farei tu! Che fai un po' quel che ti pare! Ma guarda che testa di cazzo che sei! Era verde! E' inietato! Adesso Roscio è andata qui! A me lo dico mi sono confuso i colori! E si fai così! Questi 10 giorni! Mi sono confuso i colori! Ma quei colori! Quei tu sei! Ma vabbè cammina! Perché? Tu sei lo stronzo! 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 E stronzo! Ma perchè? Ma quanta rabbia! Testa di cazzo! Tu sei un testa di cazzo atomico! Pure! Ma come no! Ma che è l'idea a sto cazzo! E' molla la strada! Ma che mi va a fare tutto il greppo! Scemo! Dormi! Oh! Mi ha preso un attacco di sonno! E' molla la rotonda! Cammina! Gnocco! Cazzo! Steven! Robin Hood! Si è presentato! Però che hai portato Michael? fai vedere prende prende eccola guarda che ha portato grande lauro accendevolo no? tu non caccio non ti coglioni tanto tu mapponi che tu non caccio non ti coglioni tu non sei più buono dopo che ti ha dato il culo nooo eh eh com'è oh vedi chimi di penne che tu sei penne che vuol dire quello stile a cavallo ma non le vuol da porti qui ma non le vuol da porti qui noi le vediamo ma mica le ha comprati le ha comprati certo lo dico io mapponi 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 è contento guarda guarda il boss del quartiere guarda quanto è contento guarda guarda il boss del quartiere ti è piaciuto guarda come rire il coccodrillo questa è bella non è bella questa questa quando c'è filiberto la giunta la mette per dietro sotto hai capito che anche lui è indispettoso quindi sta da dire fai scherzi al nonno ma lui fa uguale ieri mi hanno tirato i due sotto la sedia di la verità perché se no la gente pensa fai scherzi al nonno la grande deficiente perché tu sei un grande deficiente non l'ho sparata io e chi l'ha sparata ieri? perché io stevo assedato lì e non mi sono morto comunque fai dispetti come me quindi è uguale solo che lui non si riprende e chi l'ha sparata non ne fai chi l'ha sparata non te il dico perché io la spia e ci credo è stato lui ragazzi dovete capire che lui è un birbaccione quindi prima descrive lui è il peggio ricordatelo che poi vi devo dire anche un'altra cosa quando io ero più piccolo e lui era più giovane i dispetti che mi faceva ma sono sempre stato zitta adesso il primo dell'anno così lo sapete tutti così lo sapete tutti primo dell'anno in cucina c'è anche la luce psicodelica solo a casa mia succedono queste cose dovrò cambiare il neon guarda che spettacolo la cucina più ballata d'italia alla piastra abbiamo una bellissima bistecca oh che cazzo ma magno 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 magna sempre ma non mi magna sempre magna un po' un'insalatina tocca ma non tocca metta la giù metta la giù povera nooo la detta che tocca fa ma la detta la detta la detta le dice grosse ora le sta a dire ancora sottovoce guarda che lavoro è furbo sta a fare imprecazioni sottovoce ma il bar è presente e anche se ci ha messo la coccia davanti lui ti guarda ok oh hai capito oh oh no sciacca di coglione sta a dire ride ride dai fa la foto guardami ride più forte più forte meglio meglio dai meglio adesso te può fuori non te muove fermo così guarda da me guarda da me gira la testa di qua di là di qua di là su giù giù su e poi oh e poi che da fa una sega ma vuole spicciare e mi rovi coglione ma però ride eh ride da ha accantonato la carne deve sta a dieta l'amico nostro eh eh nonna marie e la vuole quella non è perché la è mezza dieta è vero già perché non lo so mangiare quasi la mamma ti porta sempre a tavola una cosa deliziosa che sono ma non so che c'è già un po' eh ma questo sotto che è vuole van vuole van vuole van vuole van tu le vuole van le vuole van o non le vuole van se le vuole van te le dà van se non le vuole van te le dà van stai andando a cuoce senti quanto cuoce senti vabbè le coglione tronzo ah nonna che sei anziano e quei giovani non ci sta più bene eh oh eh beh non mica io ci voglio stare sembra lì viene dall'esposizione se ormai sei indietro no non per conto mio aggiorni te mandarin fermati oh testa di cazzo ma il mandarino vuoi o no il mandarino allora mensile te l'accompagnavo ti accompagnavo il mandarino alla mangiata ma quando quando il mio nonnino bello ecco ah 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 camadò ah 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 questi denti finti ma las metto un picoglione io ti tocco il pistolo avrai più vivo da scappare no vabbè allora le minacce pesanti no va bene tutto ma le questo mi sa che il regno c'è fammi dormi con te ma perché mi è grande fratello perché ce ne hanno altri 4 o 5 come te vateli va fammi dormi con te ma s'ha degli coglioni ma manca vicino ma in realtà fammi dormi con te fammi dormi con te maggiore croce me l'ho per il maione dio mi piace proprio stare qui davanti posso portarla via questa vediamo se è antisismica permette no 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 non è che il copiano mi sono fatti no 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 vuoi le vedi a Medeo grazie a tutti